Matteo Urrini, come vai da queste parti? Sto dando una mano allo Stato di Monte Sant'Angelo, non sto preoccupando dell'impianto e della buona riuscita di questa bellissima manifestazione. Dopo tanto tempo, dopo tanti anni, di torna il ciclismo a Monte Sant'Angelo. Speriamo che vada tutto bene, peggio di sì perché ce l'abbiamo messa tutta, per far sì che la manifestazione diventa un fiore all'occhiello. Che Monte Sant'Angelo ne ha bisogno. C'è anche tuo figlio? Mio figlio non è potuto venire per motivi di ferie, non l'hanno dato le ferie, però il cuore sta qua in questa manifestazione. Speriamo il prossimo anno. Il tuo compito è l'amplificazione? Il mio compito è amplificare, forse farò un paio di giro per onorare questa manifestazione, essendo un ciclista da strada. Io sono da poco appassionato della montabare, quindi sono prettamente... Come mai sei passato dalla tarantella a ciclismo? È un passaggio ottimo, un connubio che ci sta. Le tradizioni, con lo sport si sposa benissimo. E così, dai... C'è balli con la tarantella, balli con la serra. E poi facciamo la tarantella a fine gara. C'è la tarantella? Eh beh, sì, sicuramente mettiamo un pezzo col ciclismo. Quindi si balla? No, non ho portato il gruppo questa volta. Per il Covid-19... E bisogna, giustamente... Non bisogna mai dimenticare... Però mettiamo le basi, chi vuole si può fizzicare sul posto stesso. Grazie! Così, grazie a voi.